Doppietta di Dybala e sorpasso effettuato, la Juventus per la prima volta in stagione guarda tutti dall'alto verso il basso e mercoledì può addirittura andare a più 4 sul Napoli se batterà l'Atalanta. Maurizio Sarri non molla la presa e carica i suoi per provare a dare fastidio alla Juve fino alla fine del campionato. Scialbo 0-0 a San Siro contro l'Inter, Spalletti blocca per la seconda volta gli azzurri sul pari. Vincere per accedere ai quarti di finale di Champions League, la Roma si prepara per la sfida di ritorno degli ottavi contro lo Shakhtar e Di Francesco. Suona la carica, si riparte dal 2-1 dell'andata, servirà una vittoria per passare il turno. Buonasera e ben ritrovati al TMV News, una ventottesima giornata di Serie A che ha parlato e ha detto Juventus perché i bianconeri per la prima volta in stagione sono al primo posto in classifica e potranno aumentare fino a più 4 mercoledì nel recupero contro l'Atalanta. Vado a salutare Raimondo De Magistris, ciao Raimondo, buonasera, e Ivan Cardia, ciao Ivan. Buonasera, buonasera. Allora andiamoci subito a sentire le parole di Massimiliano Allegri nel post-gara di ieri. La Juventus credo che stia facendo un campionato importante. Se, con i secoli di Massa da nessuna parte, non avesse trovato il Napoli, la Juventus avrebbe già 10 punti di vantaggio come è nella normalità. Così, ferma, così lo può dire anche Napoli, perché se non avesse trovato la Juventus, il Napoli avrebbe già metto lo scudetto. Quindi sono due squadre che fanno, stanno facendo un campionato importante e straordinario. Quindi la Juventus non è che ora ha trovato continuità. La Juventus l'ha sempre avuta, perché a parte Genova, la Juventus ha la spada di Damocle, tra virgolette, sui due rigori di Bergamo e della Lazio in casa. Quindi, su quell'aspetto lì, direi che alla squadra non c'è da rimporre bene niente. Gli infortuni abbiamo solo Quadrado e Bernardeschi. Quadrado, ieri è nato in Germania, vediamo se ritornerà abile, arruolato nel giro di breve tempo, altrimenti faremo senza, non possiamo fare altro. Quando sono fortunato. Bernardeschi, per noi e soprattutto per Federico, speriamo che dopo questi 15 giorni, partendo da domani, 10-15 giorni, facciano sì che non avrà bisogno dell'operazione, ma potrà rientrare con la squadra. Poi gli altri stanno tutti bene. Sul Napoli, lo scudetto si riuscita in ultime giornate. Uguale, non cambia niente. Sono talmente tanti punti. Ora, con la vittoria di oggi, siamo quasi matematicamente dentro la Champions League. Ha detto Allegri che il campionato Raimondo si deciderà, come sempre, nelle ultime giornate. Se la Juve però dovesse battere l'Atalanta, sa un po' di sentenza per il Napoli. Sì, adesso la Juventus è nettamente favorita. Cinque punti conquistati sul Napoli nelle ultime due giornate. Il Napoli di fatto questo doppio confronto diretto con Roma e Inter non l'ha superato. Ha perso con la Roma, ha pareggiato a San Siro, pur mostrando un gioco, secondo me, leggermente migliore rispetto a quello palesato contro i giallorossi. Però ieri al Napoli serviva la vittoria per rilanciarsi e vittoria non è stata. Mentre la Juventus ha portato a casa i punti che servivano, adesso contro l'Atalanta può portarsi a più quattro. In un campionato che specialmente al vertice viaggia su questi ritmi così alti, su queste medie così alte, quattro punti, se quattro punti saranno, sono davvero parecchi. Ha parlato anche degli infortunati Massimiliano Allegri, Quadrado e Bernardeschi, che potrebbero averne ancora per tanto. La Juventus, lo abbiamo detto, è molto favorita per quel che riguarda lo scudetto, però c'è la Champions dall'altra parte. Quanto sarà fondamentale per i bianconeri recuperare sia Quadrado che Bernardeschi per la volata finale? Sarà fondamentale, sarà fondamentale anche ritrovare un Mandzukic a pieno regime, perché poi giustamente gli infortunati, nel senso proprio del termine, sono loro due. Però anche Mandzukic non sta benissimo dal punto di vista fisico, sarà una cosa fondamentale. D'altra parte la Juventus è abituata a chiudere crescendo la stagione, anche l'anno scorso lo abbiamo visto. Penso che Bernardeschi sarà un ritorno più immediato, anche più semplice da gestire. Quadrado potrà essere un'arma proprio per il finale di stagione. La differenza vera, secondo me, la farà in Champions, perché in campionato la Juventus, a parte il ritorno contro il Napoli, ha comunque partita alla portata, diciamo la verità, la Serie A è alla portata di Juventus e Napoli, a parte lo scontro diretto. Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro l'Inter, a San Siro ci si aspettava una risposta dopo il K.O. Sonoro contro la Roma della settimana scorsa e questa risposta è arrivata soltanto in parte. Andiamoci a sentire le parole di Sarri nel post-gara con una gag finale nei confronti di una giornalista. Noi abbiamo la responsabilità unica di fare il nostro 101%, e stasera la squadra mi ha dato la sensazione di volerlo fare a tutti i hosti. ha fatto una partita di grande attenzione difensiva perché ero fortemente incazzato per quello che avevo visto nell'ultima partita e mi ha dato una risposta forte e ha innalzato l'attenzione e l'applicazione difensiva senza pagare a livello di qualità. e questa è tanta roba e spero che questo ci consenta fino alla fine di fare il nostro 101%. Poi nessuno a noi può chiedere responsabilità di primato. Noi abbiamo un merito semmai che siamo l'unico campionato europeo ancora in equilibrio, escluso quell'inglese che non casualmente è più ricco di tutti, ma è più ricco di tutti perché ha tante squadre che possono vincere e è un campionato che mi sembra negli ultimi quattro anni e stavo vinto da quattro squadre diverse quindi è chiaro che intorno fa montare grande interesse. Poi ci sono gli altri campionati in Europa in cui la Juventus è paragonabile a Real e Barcelona Spagna, PSG in Francia, Bayern in Germania e ti ho detto tre campionati e sono già finiti a mesi. Se il nostro non è finito, in merito penso sia principalmente nostro. Scusami il termine ma cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine. Eccomi qui mister. Sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso. Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi. Le chiedo di fare un ragionamento. E' stata troppo dura dunque la giornalista a dire che il campionato è già chiuso. Ma onestamente è stata una brutta caduta di stile. Battute a parte, credo che da questo punto di vista Sarri debba crescere tanto. E se vuole davvero imporsi come un grande allenatore a livello europeo, ecco qui c'è da lavorare. Perché non c'è dubbio che il Napoli quest'anno giochi bene, che esprima il miglior calcio in Serie A, è uno dei migliori giochi anche in Europa. Però un grande allenatore si vede anche nelle difficoltà, anche nel come riesce a gestire i momenti più difficili anche mediaticamente. Da questo punto di vista secondo me Allegri è due o tre spanne in avanti rispetto a Sarri. Che invece sta dimostrando di non saper reggere la pressione. Perché bastano un paio di passaggi a vuoto per uscite che secondo me dovrebbe risparmiarsi. È stata una giornata molto particolare quella di ieri in tutti i campi italiani, in tutti i campi d'Europa, ma soprattutto a Firenze dove c'è stato l'ultimo ricordo di Davide Astori dopo la tragedia della settimana scorsa. Andiamo a Via Reggio dal nostro Lorenzo Marucci che ci fa il punto su cosa è successo ieri a Firenze sulla giornata di oggi con il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa che ha letto il giuramento per il torneo di Via Reggio. Quella di ieri è stata in effetti una giornata molto particolare per Firenze che ha voluto ricordare nel migliore dei modi Davide Astori. Tanti brividi, commozione, dolore per ricordare il capitano per sempre della Fiorentina. Particolarmente significativo è stato il momento dell'ingresso in campo delle due squadre quando è calato un silenzio irreale sul Franchi. Un silenzio fatto di rispetto per Astori, tanti cori, tanti incoraggiamenti anche per la famiglia di Astori. Astori che è stato ricordato anche poi con una coreografia da brividi da parte della Curva Fiesola al minuto 13 quando la partita si è interrotta per ricordare proprio Astori. Poi le coincidenze del gol di Vito Rugo, lui che ha la maglia numero 31 e poi ha segnato al minuto 26 quando erano le 13. E quindi insomma tante coincidenze che non sembrano assolutamente casuali e poi alla fine della partita tanti giocatori che sono caduti a terra in un pianto liberatorio. È stato particolarmente significativo anche il gesto di Badel che alla fine della partita davanti alla Curva Fiesola ha mostrato la fascia di capitano a tutti come per dire Davide Astori è qui con noi. Nel frattempo la Fiorentina va avanti anche per quel che riguarda il settore giovanile. È iniziato oggi il torneo di Viareggio, c'è stato il giuramento da parte di Federico Chiesa che è arrivato qui a Viareggio per onorare comunque anche questo torneo. Non ha rilasciato dichiarazioni perché chiaramente è un momento ancora molto difficile da affrontare per tutti i giocatori della Fiorentina. Fiorentina che esordirà domani qui al torneo di Viareggio. Grazie a Lorenzo Marucci, sempre a Viareggio, sempre parole raccolte dal nostro Lorenzo Marucci. Ha parlato il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gigi Di Biagio, andiamo a sentirlo. Siamo passati tutti di qua, siamo passati tutti di qua perché questa è storia. Basta pensare che siamo alla settantesima edizione, è tutto dire. Quindi sono passati un po' di anni e con piacere ritorno a vedere in maniera così ogni anno torno a vedere questi ragazzi. Che cosa le è rimasto della giornata di ieri e secondo lei qual è il messaggio più bello che il calcio ha lanciato in questa settimana? Che è rimasto, è rimasto tutto. Tanta angoscia perché vedere in tutti gli stati quello che abbiamo visto è veramente straziante, è stato un po' straziante per quello che è successo a Davide e ai suoi familiari. Queste dunque le parole anche nel ricordo di Davide Astori del CT della Nazionale Italiana Gigi Di Biagio. Noi adesso cambiamo argomento e passiamo alla Roma. Giornata di vigilia, Ivan, per la Roma di Eusebio Di Francesco che domani sfiderà lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una Roma che sicuramente può farcela e sarebbe un grande traguardo per il calcio italiano portare due squadre ai quarti di finale di Champions. Sarebbe un grandissimo traguardo, riscatterebbe anche un pochino la fase a gironi complicata del Napoli. Quest'anno ci aspettavamo di più dei ragazzi di Sarri, ce lo può regalare la Roma di Di Francesco. Io sono moderatamente ottimista nel senso che penso che la Roma possa farcela, che abbia tutto nelle sue mani. Perché nel complesso credo che i giallorossi siano più forti dello Shakhtar Donetsk. Paradossalmente aver perso all'andata, non dico che possa essere un vantaggio dal punto di vista psicologico, però la Roma non può fare calcoli. Deve vincere, non ha la via di mezzo del pareggio, di fare questi conti qui. Deve pensare a vincere e fare più gol possibile, perché comunque lo Shakhtar sulle ripartenze è una squadra molto pericolosa. Ma nel complesso io credo che la Roma possa farcela. Si affiderà molto ad Edin Dzeko e Eusebio Di Francesco e lo ha detto chiaramente in conferenza stampa. Andiamo a sentire le parole del tecnico della Roma. Tutti quanti abbiamo un unico obiettivo, cercare di passare questo turno per arrivare ai quarti. Ci passiamo attraverso un lavoro di squadra di collettivo, ovviamente sapendo che davanti abbiamo un centro avanti che se gli si dà la possibilità ed è in buona giornata può fare dei gol straordinari e può mettere nelle condizioni della squadra di poter far gol, non solo lui ma come ha fatto all'andata, mandare in gol i propri compagni. Per quello sarà determinante lui come tutta la squadra. Ovviamente non possiamo pensare di scendere in campo col pensiero di giochiamo 45 minuti. E' ovvio che in tanti momenti di queste gare si è dimostrato di non avere grande continuità ed è quello che ho espresso io in diverse occasioni. Mi auguro che tutto questo che abbiamo passato, alternando delle prestazioni buone e altre meno buone, ci faccia capire di avere maggiore continuità in quello che esprimiamo durante la gara. Questa è una gara dove non possiamo sbagliare, perché già arrivare a 75 minuti fatti bene significa portare a casa un risultato importante. E' ovvio che davanti abbiamo una squadra forte, però noi abbiamo il desiderio di passare il turno e per fare questo non ci possiamo accontentare di fare solo bene un tempo. Voglio da parte della squadra grande continuità, non fermarsi dopo magari anche la possibilità di andare in vantaggio, avere grandissimo equilibrio e l'intelligenza di dare continuità di prestazione. Ma al di là di quello rivedere determinate situazioni positive, altre un po' meno in fase difensiva, secondo me abbiamo commesso un po' troppi errori, non solo individuali di reparto, e questo non ce lo possiamo permettere nella partita di domani. Io ritengo che la Roma debba avere prima di tutto la grande spensieratezza e la determinazione di affrontare questa gara. Dico anche un po' di spaval della parola sbagliata, però il desiderio è ugualmente di cercare di andare a fare male agli avversari, perché non è una partita che noi possiamo gestire, ma dove dobbiamo vincere. E credo che come marchio di fabbrica per questa gara ci vuole, sì, quella spensieratezza giusta, ma grandissima voglia di fare male agli avversari. E per fare questo non possiamo essere attendisti. Ha fatto un nome e un cognome Eusebio Di Francesco Raimondo, ovvero Edin Dzeko. Punta molto sul bosniaco, strano sentire un allenatore che alla vigilia di una partita così importante indica in un suo giocatore colui che può portare la sua squadra al turno successivo. Però effettivamente ha ragione, perché i fatti stanno dimostrando, Dzeko che è giocatore imprescindibile per questa Roma. La Roma ha pagato tanto tutte quelle chiacchierate di gennaio, quella trattativa col Chelsea nel momento decisivo della stagione e non a caso la flessione di Dzeko è coincisa con la flessione della Roma. Patrick Schick anche venerdì sera ha dimostrato di non essere il sostituto di Dzeko e che in questo momento Dzeko non ha un sostituto, il rosa. Ecco perché giustamente Di Francesco ci punta, perché è il giocatore che più di altri può scardinare la difesa dello Shakhtar, è un giocatore che ha anche un'importante esperienza europea e non tutti in casa giallorossa ce l'hanno. Quindi è sicuramente il trascinatore di questa Roma che al San Paolo nel turno precedente col Torino non ha giocato perché era squalificato, col Napoli sì e se visto ed è un giocatore anche in forma e quindi giustamente la Roma in questo momento punta su Dzeko per passare ai quarti di finale di Champions League. Sono abbastanza ottimista proprio come Ivan, perché credo che questa squadra sia una squadra anche a vocazione europea per come la fa giocare Di Francesco e ha buone possibilità di passare il turno. Calciomercato che ha distratto Ed Ingeco, lo abbiamo detto, ma non vuole farsi distrarre da queste chiacchiere Florenzi, che in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sul suo futuro. La voglia che abbiamo è quella di ripetere le partite che abbiamo fatto in casa in Champions, quello sicuramente, ci è mancato qualcosa in casa ultimamente in campionato, siamo riusciti a fare comunque una buona gara l'ultima contro il Torino. Vogliamo prenderci la qualificazione, quello è sicuro, ma come abbiamo detto prima dovremmo essere anche attenti alle loro qualità. Penso non sia la sede adatta per parlare di questa cosa in questo momento. Sono abituato a pensare al presente, non a quello che succederà domani. Al presente per me però è la partita che viene, perché penso sia intanto una delle partite importanti che potrei disputare, qualora il mister me ne darà la possibilità. Una cosa che possiamo fare è quella di giocare la partita domani e dare il 100%, perché sappiamo quanto vale questa partita. per noi giocatori, ma soprattutto per l'ambiente Roma e per i tifosi vale veramente tanto. Dai dati che settimanalmente ci dà il preparato all'atletico, sono un paio di settimane che sto facendo delle buone prestazioni sotto il profilo fisico. poi non vuol dire perché puoi fare 100 km ma sbagli 100 passaggi, quindi bisogna abbinare un po' le cose. Quello sta a me, sicuramente sono in un momento questo dove mi sento bene. Speriamo di continuare questo trend anche domani. Non pensa dunque al futuro ma soltanto al presente. Florenzi ha soltanto voluto rimandare il discorso oppure è giusto concentrarsi soltanto sulla Champions per il rinnovo? Ci sarà tempo. Un giocatore che alla vigilia di una partita così importante si mettesse a disquisire del suo rinnovo del contratto, dell'interesse di altri club, mi sembrerebbe un po' strano francamente. Quindi è più che comprensibile che Florenzi alla vigilia di una gara così decisiva cerchi di glissare, di dire non è questo il momento perché effettivamente non lo è. Poi il futuro è tutto da scrivere, ci sono interessi importanti nei suoi confronti, c'è anche la Juventus, c'è una trattativa non semplice, però poi c'è anche il discorso dell'esempio di Totti, del calciatore romano e romanista che vuole rimanerlo per tutta la carriera. Lasciamogli giocare questa partita, questa Champions, insomma poi nel mercato abbiamo tanto tempo per parlarne. In chiusura Raimondo abbiamo visto una Roma dominare nel primo tempo contro lo Shakhtar all'andata, dominare nel secondo tempo contro il Torino, però sia nella ripresa in Ucraina che nel primo tempo contro il Toro abbiamo visto una Roma in difficoltà. Deve lavorare anche sulla testa di Francesco? Sì, senza dubbio e la Roma deve fare la partita, perché questo Shakhtar è squadra che ha nella difesa il suo punto debole, che se attaccata è una squadra che secondo me non ha l'altezza della Roma, però è un attacco a tanta fantasia e tanti giocatori che possono far male alla Roma. Quindi se la Roma lascia troppo spazio agli ucraini all'attacco brasiliano dello Shakhtar rischia grosso. Se fa invece la partita per 70-80 minuti, secondo me porta la qualificazione a casa. Grazie a Raimondo Magistris e a Ivan Cardia e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti.